Ai Rolly Days dal 28 aprile al primo maggio vi aspettiamo per parlare di Genova, del suo mare, della sua storia, delle grandi famiglie e di quello che è la cultura e l'arte di questa strepitosa città che ha cambiato le sorti d'Europa tra 5 e 600. Lo spazio in cui ci troviamo adesso è una delle grandi novità, quindi uno spazio completamente restaurato all'interno di uno dei palazzi proprietari dell'Ateneo di Genova, di Via Valbi 4. Naturalmente bisogna prenotare, quindi www.vistegenoa.it slash Rolly Days trattino online, ci sono ancora alcuni posti. Vi aspettiamo per questo weekend lungo di arte e cultura in una città che vi sorprenderà perché abbiamo messo in campo le nostre forze migliori, i nostri giovani divulgatori scientifici che vengono da tutta Italia per essere mediatori culturali efficaci del patrimonio e che vi racconteranno con la semplicità giusta quelli che sono la storia e l'arte e la cultura che esce da questi palazzi e che può entrare nel caso di tutti.